Più sicurezza in città. I abitanti di Agropoli sono stanchi e richiedono un intervento concreto. I fatti risalgono alla sera del giorno 30 settembre, quando in via Pio X, nei pressi di liceo classico, un ragazzo di 21 anni ha subito un'aggressione aggravata anche da furto. Secondo la testimonianza del giovane, due ragazzi di nazionalità marocchina lo hanno aggredito colpendolo con una cazzottiera di ferro. Il ragazzo è stato preso a calci e pugni e derubato. Subito dopo aver sentito le urla, alcuni residenti hanno subito soccorso il ragazzo, mentre i due marocchini si sono dati alla fuga con i soldi. Per la vittima dell'aggressione, la prognosi è di dieci giorni. I carabinieri stanno effettuando le indagini anche attraverso le immagini di videosorveglianza delle attività presenti in zona e, a quanto pare, gli aggressori sarebbero già stati individuati. Quella dello scorso lunedì 30 settembre non è l'unica aggressione avvenuta ad Agropoli, infatti ieri sera i carabinieri della stazione di Agropoli diretti dal capitano Fabio Lagarello, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un pregiudicato del posto, in seguito alla richiesta di due donne minacciate e aggredite dall'uomo. Con questo intervento i carabinieri hanno anche sequestrato delle armi detenute illegalmente e hanno richiesto l'aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti. Soltanto la scorsa settimana, durante il question time, il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Laporta, aveva richiesto un tavolo tecnico per la creazione di un progetto di controllo del territorio, facendosi da portavoce dei cittadini, che richiedono sempre con più insistenza una soluzione a questo problema di insicurezza urbana. Con questo tavolo tecnico richiesto dalla Porta si punta a risolvere alcuni dei grandi problemi di Agropoli, come il continuo schiamazzo notturno, gli atti di vandalismo e bullismo in Piazza della Repubblica, Piazza Vittorio Veneto e anche in zona Porto, il borseggio al mercato settimanale e la corsa notturna di macchine e moto a San Marco, via Piodecimo e Porto. Il presidente Massimo Laporta richiede un intervento imminente per dare più sicurezza ai cittadini agropolesi, grazie alla videosorveglianza e all'utilizzo di uomini e risorse per contrastare questa problematica.